Una stagione particolarmente ricca di attività, di impegni, di appuntamenti, di eventi per lo Xen in tutta la Liguria. Come è andata? È andata benissimo, mi presento, sono Roberto Romano, commissario regionale Xen. La stagione è andata benissimo, siamo in forte crescita, siamo il primo ente nazionale riconosciuto dal CONI in Italia. Adesso quest'anno chiuderemo la stagione, apriremo poi a settembre con l'anno sportivo. Abbiamo fatto tante iniziative per quanto riguarda arti marziali, artistica, abbiamo organizzato tantissime gare qua a Liguria grazie anche ai miei colleghi provinciali e grazie a tutte le 500 SD che abbiamo riconosciuto con CONI e famiglia Xen. Quindi i progetti sono tanti, saranno tanti a fine dell'anno dove ci sarà una grossa gara di arti marziali che organizzerò io come regionale e dove conteremo 2000 atleti. Quindi un panorama molto vasto di tutte le arti marziali. Una Liguria quindi pronta ad accogliere anche atleti in arrivo ad ogni parte d'Italia? Sì, una Liguria pronta come tutti gli anni, come tutte le organizzazioni organizzate dal regionale, sempre con l'aiuto chiaramente del nostro nazionale, del nostro Presidente Proietti che ci aiuta, ci supporta anche a livello finanziario per queste iniziative che comunque sono delle iniziative costose tra medaglie del palazzetto e tutto quello che riguarda anche gli hotel, i giudici, tutta una serie di cose che comunque è un bel pacchetto spesa. Un obiettivo particolare da raggiungere, da coronare in questa ultima parte del quadriegno? Bellissima domanda, ce l'ho perché come Xen abbiamo su quattro province di Liguria, ne abbiamo due, siamo nel primo posto, Savona e Imperia, dove il mio collega di Imperia ha dei numeri fortissimi. Quindi per me l'obiettivo principale è essere il primo ente in tutte le province, quindi ci manca Spezia e Genova. Dove stiamo lavorando? Stiamo lavorando con il mio provinciale, con Chimeri, con Carlo Chimeri e ci sto lavorando anch'io perché faccio affiliazione anch'io come regionale, quindi sto spingendo tantissimo per avere il titolo e per avere quattro province Xen al primo posto.